questa tattica sul prossimo avversario del Napoli ovvero il Sassuolo di Roberto De Zerbi il Sassuolo di Roberto De Zerbi ha l'undicesimo posto in classifica nel campionato di Serie A con 31 punti con uno score che parla di 35 gol fatti e 41 gol subiti con i 35 gol fatti si tratta del decimo attacco del campionato mentre con i 41 gol subiti si tratta della tredicesima difesa del massimo campionato di Serie A contro il Napoli De Zerbi sicuramente opterà per un modulo di gioco impostato sul 4-3-3 con la formazione che scenderà in campo che dovrebbe essere la seguente Pegolo in porta, linea difensiva a 4 da destra verso sinistra composta da Lirola, Ferrari, Peluso e il brasiliano Rogerio sulla sinistra a centrocampo il terzetto sarà composta da Duncan, da Magnanelli e da Locatelli ex Milan il trio di attacco sarà Berardi, Babacar e Boca come al solito andiamo a distinguere le due fasi di gioco del sassuolo di Roberto De Zerbi la fase di possesso palla e quella di non possesso in fase di possesso palla i neroverdi cercano sempre di controllare il gioco e di avere il pallino nelle proprie mani anche contro squadre più blasonate e superiori tecnicamente come potrà avvenire quindi domani sera alle 18 al MAPEI Stadium anche contro il Napoli l'obiettivo di De Zerbi è sempre la ricerca della superiorità numerica in mezzo al campo attraverso il controllo del pallone e l'utilizzo di una serie di movimenti frutto di allenamenti mirati il sassuolo spesso utilizza delle rotazioni e degli interscambi nei suoi meccanismi di gioco per esempio spesso con palla al terzino di solito tra l'altro un'altra caratteristica del sassuolo è quella di iniziare il proprio gioco sempre dal basso addirittura dal portiere in alcuni casi spesso quindi con palla al terzino la punta centrale si abbassa, il laterale offensivo si accentra e quindi si crea così lo spazio di inserimento per il terzo uomo rappresentato dalla mezzala di centro campo in fase invece di non possesso palla invece il sassuolo di De Zerbi porta sempre un pressing molto alto in ogni zona del campo che è la vera e propria prerogativa, la caratteristica principale della difesa di De Zerbi è proprio quella di praticamente andare a pressare in ogni parte del campo per cercare di creare densità e quindi togliere spazio agli attaccanti avversari il sassuolo sembra spesso quindi in fase di non possesso soffrire molto spesso le situazioni su palla inattiva quindi su angolo, su punizione e inoltre gli uomini di De Zerbi hanno spesso evidenziato anche difficoltà quando gli avversari effettuano dei movimenti tra le linee sulla tre quarti una partita che ovviamente vede favorito il Napoli perché il sassuolo tecnicamente è inferiore alla squadra partenopea lo dice la classifica del resto, però è una partita nella quale, lo dicevamo anche prima bisogna scendere in campo con le giuste motivazioni altrimenti può comunque portare qualche problema perché comunque il sassuolo è sempre alla ricerca di punti che rendano la propria classifica che già lo è di per sé fino a questo momento ancora più stabile e ancora più di prestigio Perfetto Natale, grazie come sempre per il punto preciso dell'angolo giustice